ciao ragazzi allora come promesso vi facevo vedere il raccoltino dell'altro giorno questo è il concentrato siamo solo all'inizio e sembrerebbe che si stia riempendo la nostra canalina di belle pagliuzze d'oro del ticino ok il concentrato lo laviamo qua a casa tranquilli dopo vi faccio vedere il mallocco molto 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 fine eh sì! gold oro oro questa è la realtà sono le quattro pagliuzze ingrandite ho cercato a rifare l'occhio quattro pagliuzze ingrandite grosse quanto una mano e poi sono grosse così alla fine fateci il piacere di qua ragazzi mi aspettavo un po' di più però insomma adesso vi faccio vedere come lavare il concentrato da quest'ultimo da quest'ultimo magnetite e matite che rimane giù con la mia tecnica bisogna fare così però bisogna cantare una canzoncina per andare a tempo bisogna fare Goldoro, Goldoro, Goldoro ti voglio al più presto sposar Goldoro, Goldoro ed ecco che si è pulito se non cantate la canzoncina non viene sennò si può fare anche così però così bisognerebbe cantare un'altra canzoncina che fa Goldone, Goldone, Goldone al centro ti voglio portare eccolo lì è andata al centro e si è pulito ci sono tanti modi di pulire però l'importante è sempre cantare la canzoncina Goldone per gli amici Gold e basta Gold Higiu si chiama Gold si chiama Gold a proposito ci sono con il Diggers il film delle idee non pestate i piedi grazie mille grazie mille grazie mille Grazie a tutti.